Lunedì 26 agosto, buongiorno e bentrovati con l'edizione del mattino del TGL News. Una morte tanto tragica quanto assurda e quanto riservato dal destino a un 67enne che sabato sera ha perso la vita in ospedale dopo i disperati tentativi degli operatori del 118 giunti sul posto dopo l'allarme lanciato dai familiari a causa di un boccone di cibo che ha ostruito le vie aeree dell'uomo. Stanno alle ricostruzioni, il 67enne stava mangiando con i nipoti in un appartamento di via Zanetti a Piacenza, sembra essere stato un osso di pollo a conficcarsi in gola e ad aver provocato prima il principio di soffocamento e successivamente l'arresto cardiaco che non ha dato scampo all'uomo. Inutili infatti le operazioni praticate dai soccorritori che hanno applicato i protocolli di intervento richiesti in questi particolari casi. Una sborna pesantissima che è costata un grave malore è la successiva perdita di conoscenza all'interno del parco giochi di Borgonovo, protagonista della vicenda non è un adulto con problemi di alcol, bensì un 14enne che in pieno giorno è letteralmente collassato a causa proprio della grande quantità di alcolici ingerita. È accaduto nel pomeriggio di ieri quando a causa delle condizioni preoccupanti del giovane dalla centrale operativa del 118 è stato disposto l'invio del servizio di elisoccorso. Fortunatamente il 14enne con il trascorrere dei minuti e grazie all'intervento di medici e infermieri è migliorato ed è stato condotto all'ospedale di Piacenza in ambulanza. Mi ha afferrato per le spalle trascinato di peso fuori dall'auto, mi ha minacciato, voleva che pagassi a tutti i costi, ho avuto molta paura e temo che se non fosse arrivata la polizia poteva finire molto peggio. È ancora scossa la piacentina di 36 anni aggredita in pieno giorno nel parcheggio dei pendolari di Viale Sant'Ambrogio a Piacenza. L'autore sarebbe uno straniero, l'uomo sosteneva che la sua auto fosse stata urtata da quella della ragazza durante la manovra di retromarcia per uscire dal parcheggio, ma la ragazza non ha dubbi, è stato un tentativo di truffa. I dettagli sul quotidiano Libertà in edicola. Chiudiamo con lo sport, ieri si è aperto il campionato di Serie C che ha visto in campo anche il Piacenza Calcio. Questa sera alle 20.15, rigorosamente in diretta, sarà anche tempo della prima puntata di zona calcio, anzi zona Piacenza, visto che sarà incentrata in attesa del calcio di lettanti proprio sul Piacenza. Corrado Todeschi e Laura Fregoni guideranno una serata incentrata appunto sull'esordio in campionato dei Biancorossi a Vicenza contro l'Arzignano. Sfida finita 0-0 per la puntata inaugurale della trasmissione. Saranno mister Arnaldo Franzini e il direttore sportivo Luca Matteassi a rappresentare la società dei Fratelli Gatti allo spazio rotativo. Non perdetevi il primo appuntamento stagionale con zona Piacenza, ovviamente su Tele Libertà. Questa è la nostra ultima notizia, il prossimo appuntamento elettrice 15 con il TGL. Buona mattina a tutti.